In diretta dal Salone Internationale, del libro di Torino, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Salvatore Ligeri. Ciao Salvatore. Buonasera, buonasera a chi in questo momento sarà connesso e sta guardando questa intervista. Ebbene, perché in questa intervista abbiamo molte cose da dire. Sicuramente, insomma, già il libro suscita un po' di curiosità, anche perché dà già l'idea di un grande viaggiatore. Salvo a Santiago. Salvo che in realtà ha un doppio significato? Sì, in realtà Salvo, anche se io mi chiamo Salvatore, non porta il mio nome a quel libro, ma porta semplicemente il significato di Salvo a Santiago, cioè sono arrivato Salvo a Santiago. Quello è, insomma, il senso vero. Esatto. Anche perché tu sei arrivato in questo percorso che hai fatto a Santiago, reduce in realtà già di tantissimi viaggi, perché tu hai 19 anni, dico bene, o 18? A 18 anni, quasi 19, sì. Hai iniziato a viaggiare e quindi non ti sei mai fermato. Solo quest'anno hai fatto una breve pausa, sei tornato a casa e stai lavorando qui in Italia. Sì. Perché avevi forse un po' bisogno anche di ritrovare le tue radici. Ma tanto sei già pronto per un prossimo viaggio, ma adesso non vogliamo spoilerare, dai magari dopo. Assolutamente. Salvo al Santiago, racconta per l'appunto di questa tua esperienza, di questo tuo viaggio, soprattutto con te stesso. Esatto, è più che la descrizione del Cammino di Santiago, che oggi bisogna ricordare che il Cammino di Santiago conta quasi 400.000 pellegrini all'anno. Quindi è un percorso strapercorso, sicuro, lo percorrono i bambini, lo percorrono le famiglie, i turisti. Quindi sta diventando una cosa molto popolare e bella, perché riaccomuna le persone a quel contatto che manca. Perché la vera connessione che manca oggi è quella tra l'uomo e la natura. Si parla tanto di connessioni, dico sempre, ma poi la vera connessione è quella primordiale. E io credo sia per quello che poi tutte quelle persone vanno e percorrono questo cammino per ritrovarsi. Però diciamo che il cammino che io scrivo, che ho scritto all'interno di questo libro, è un cammino interiore. È la lotta interna dell'anima e ciò che ho pensato in come momenti per ritirarmi su dopo aver subito... Io ho solo 26 anni, quindi in Toscana io vivo a San Mignato, direbbero sei un bimbetto. Però ho vissuto purtroppo delle esperienze dure, anche se a 20 anni si dovrebbe vivere dispensieratezza. Ma non è stato purtroppo così. Lì dentro c'è scritto non solo il mio risveglio spirituale, ciò che mi ha portato poi salvo a Santiago. Ma ci sono anche delle testimonianze. Perché ci sono delle persone che hanno voluto scrivere all'interno di questo libro il perché hanno voluto percorrere il cammino di Santiago. Quindi ci saranno storie veramente dure di donne, anche uomini, che hanno percorso quel tragitto per un particolare motivo. Perché per andare sul cammino c'è sempre un motivo. Un motivo. C'è sempre un qualcosa che ti spinge. Come tu dicevi, hai avuto tu delle esperienze particolari. Ovviamente abbiamo detto in precedenza che tu viaggiai tantissimo, da quando avevi 18 anni. Sono stati tanti i luoghi dell'Europa che hai percorso in lungo e in largo, dove non solo hai viaggiato, ma in realtà sei stato anche là in pianta stabile, hai lavorato. Insomma hai vissuto in vari luoghi dell'Europa. Uno di questi è stata la Polonia. Sì, esatto. È quella che poi, insomma, diciamo che ho contato la vita. La Polonia è stata la mia condanna e la mia fortuna. La mia fortuna perché io ho una figlia che ha due anni e mezzo, che si chiama Chanel. Il motivo per il quale ho dedicato questo libro è lei. Infatti c'è scritto anche nelle dediche. Purtroppo la condanna è che non riesco a vederla. Non riesco a vederla da due anni e mezzo ormai. Per colpa sia dell'ignoranza che della cattiveria, ma più della cattiveria. Bisogna mettersi in conto che molto spesso quando le persone ci fanno del male, tendiamo sempre a giustificarci perché diciamo mi ha fatto del male perché la colpa è mia. Mi ha fatto del male perché ho sbagliato a fare questo. Senza rendersi conto a volte che ci sono le persone malvagie, ci sono le persone cattive che vogliono manipolarti, vogliono farti del male. E quindi a volte non devi autoinfliggerti e dire colpa mia, ma dire io sto ragionando a cuore aperto, sto ragionando con una coscienza pulita. Se la risposta è sì, non abbiamo niente di cui temere, noi. La verità è molto importante. L'identità si costruisce sulla verità. Noi siamo ciò che diciamo e ciò che facciamo. E la più grande forza dell'essere umano è la verità. E la verità ci fa camminare lontano, ci fa fare tanti bei passi e non ci lascia mai più da soli. E in questo momento di sicuro diciamo che il fulcro della tua vita è proprio tua figlia, anche se purtroppo non la puoi vedere perché ti viene impedito, ti viene letteralmente sottratta. E quindi forse questa adesso è anche un po' la tua missione, scrivere questo libro, parlare di lei, perché è qualcosa che tu devi lasciare a lei. Io sto vivendo per mia figlia. Io non avrei mai fatto il cammino di Santiago se non fosse stato per lei. Non avrei mai scritto un libro se non fosse stato per lei. Non mi troverei nemmeno alla fiera al Salone del Libro di Torino se non fosse stato per lei. E non avrei neanche tutti gli amici che ci sono oggi qui insieme se non fosse stato per lei. Quindi io sono felice di vivere ogni giorno con l'amore per mia figlia, perché lei è la forza. Non sono le mie gambe, ma è lei. Quindi lei mi dà l'amore che poi cerco di trasmettere e di ricevere da tutti, no? E sono diventato un idealista e un testardo. Prima ero molto vulnerabile, ma dopo la mia condanna da parte di chi mi ha voluto fare del male, in verità ha liberato me. E tra l'altro vorrei fare un altro accenno proprio alle persone che sono qui oggi con te, che io dico c'è la platea, ma perché realmente ci sono moltissime persone che lo hanno accompagnato e che in realtà ti accompagnano ogni giorno grazie ad una pagina che tu hai creato sul web. Esatto. Una pagina di condivisione, di unione. Che poi il merito, non lo dico per dire, va a tutti noi, a tutti quelli che sono qui oggi, perché il ruolo è di ognuno di noi. Siamo noi che decidiamo di essere insieme o no. Io ho soltanto parlato, e andavo tutto sul Cammino di Santiago, condividendo delle dirette. Abbiamo iniziato a parlare di vita, ho ricevuto messaggi, tanti messaggi in cui si condividevano la propria sofferenza, ma anche la propria gioia. E da lì ne è nata una comunità, ne è nata una community che si chiama Condividere Felicità. E abbiamo un motto che è mai più da soli. E oggi lo stiamo dimostrando con forza, a passi piccoli ma belli e forti, dico sempre io, arriveremo sempre più in là e sempre più avanti. Oggi credo che sia il nostro primo grande passo perché dallo smartphone e dai messaggi siamo passati a guardarci negli occhi e siamo bellissimi. Io sono orgoglioso che oggi siamo qui tutti e vi voglio bene tutti. Che bello, che bello, complimenti. Anche perché del resto questa è la dimostrazione che veramente, pur essendo distanti, perché comunque magari molti di voi non vi vedete nella stessa città, non vi vedete sempre. Prima volta visti oggi. Pensa, eppure guarda che grande legame che si è già creato. Per cui forse questo è un altro dei vantaggi delle tecnologie di oggi, dei social, del web, che in realtà si è sfruttati bene. Questa è la dimostrazione che se ne può fare veramente un utilizzo vero. Cioè non dividere ma unire. E questo forse è il vero scopo, no? Unire. Purtroppo internet è nato come una meraviglia. È nato come la meraviglia della libertà e della democrazia nell'uomo. E invece è stato corrotto. È stato corrotto da idee poco consone, da idee che portavano a dividere, da idee che portavano a monetizzare. E invece io credo che anche se siamo pochi, noi siamo pochi centinaia. Siamo al momento circa 800 nella community. Eh beh, già comunque parecchi in realtà. Sì, per me è un grande passo. Però siamo una piccola goccia di tutto l'oceano che c'è. Certo. Però quella goccia c'è. Noi ci siamo, ogni giorno siamo lì per condividerci, per condividere idee, per condividere esperienze, per condividere un sorriso. Perché ricordatevi, anche a tutti quelli che stanno guardando in questo momento, che sorridere può salvare la vita a una persona. Che voi siate in una metro, in un tram e date un semplice sorriso a uno sconosciuto, voi non sapete il cammino che ha fatto quella persona. E magari in quel momento, inconsapevolmente, gli state salvando la vita. Quindi ricordatevi, e questo lo dico sempre, che la più bella delle rivoluzioni deve iniziare da un sorriso. Perché con il sorriso, che è contagioso, credo che riusciremo a espanderlo più velocemente dell'odio che viene condiviso di questi tempi. Ed è molto più potente. Assolutamente sì, di fatti noi in questo momento ci stiamo proprio nutriendo del tuo sorriso, della tua energia e di tutto quello che hai da donare e da condividere. Come del resto lo è proprio il tuo romanzo, Salva Santiago. Molto presto farai un prossimo viaggio? Sì, esattamente. Non posso rivelare esattamente il mese, tanti lo sanno, però pubblicamente non lo posso ancora dire perché è una sorpresa per qualcuno. Va bene, va bene, va bene. Però dico che tra un paio di mesi partirò sulla Francigena, percorrerò dal Gran San Bernardo fino a Roma, prenderò un traghetto da Roma, arriverò in Sicilia e attraverserò da Palermo ad Agrigento a piedi. Io sono nato in Sicilia, ma non ci vado da dieci anni. Per via dei miei viaggi non ci sono potuto stare, mi mancano i miei nonni e la vita è una. Quindi ne devo approfittare e ne approfitterò durante questo viaggio, questo pellegrinaggio, per andare a riabbracciarli. E poi ripartire di nuovo perché andrò in Irlanda sulla Dingleway, sono circa 180 km tra le coste dell'Atlantico e non ci andrò da solo perché ad accompagnarmi ci saranno tutti gli amici della nostra community. Condivido con loro ogni mio passo, ogni mio cammino e sono orgoglioso perché sembra strano e lo sembrerà anche a chi ascolta, ma a noi ci si vuole bene. Non ci eravamo mai visti prima, è la prima volta, ma detta alla Toscanaccia ci si vuole bene. E così ci si appoggia, ci si aiuta l'un l'altro e anche la condivisione è accrescitiva sicuramente. E poi indubbiamente tu ancora nel tuo percorso lotterai e lotterai sempre per tua figlia. La mia lotta è appena iniziata da quel lato lì. È il mio obiettivo di vita, io finché respirerò avrò due polmoni e un cuore che batte, combatterò per mia figlia. E se un giorno è il tempo, perché il tempo nella vita è corto, è un volo, anche se non ci dovessi essere, c'è adesso questo libro come testimone. E ci sono tante altre belle anime che sanno, spero, sapranno chi sono, cosa faccio. Voglio testimoniare tutto quello che è la mia vita, quello che sono io, quello che sarò, quello che sono stato. Perché sono dalla parte della verità, voglio urlare la mia verità e non c'è bugia che tenga quando hai di fronte la verità. Mai. Grazie Salvatore Ligeri. Lo potete fare l'applauso se volete? È stato così bravo. Salva Santiago e ci rivediamo molto presto. Assolutamente. E mi viene solo da dirti buon viaggio. Ultreia. 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 Ultreia.